Buongiorno a tutti da Svizzerando 360, benvenuti in questo nuovo video come vedete sto andando a prendere il treno perché come sapete come primo video di questa serie dei mini video giornalieri quindi da farvi vedere un po' com'è la mia giornata solita, cominciamo appunto dal mattino, saranno tante mattinate in cui staremo assieme e niente, noi praticamente apriamo già dalle 10 quindi prendo il treno delle 8.57 che prendo sempre al limite ci vogliono circa 37 minuti, più o meno alle 9.35 così siamo lì a Thun le prime volte, le prime settimane a luglio entravamo anche ancora prima ma a livello fisico così era troppo pesante e visto che non abbiamo ancora mole di lavoro ancora da poter aprire, cioè da dover lavorare tantissimo quindi ci concediamo ancora al lusso di arrivare lì proprio alle 10 ed eccoci qua, dopo due mesi che non faccio video, questo è uno dei primi che sarò e niente qua c'è un po' di gente che va in giro quindi come sempre allora come sta andando questi mesi? Allora il primo mese è stato veramente faticoso nel senso che ci dovevano conoscere, abbiamo dovuto fare tanta pubblicità, tanta tantissima pubblicità e quindi era un po' improbabile che ci venissero 300.000 persone in un mese e purtroppo siamo riusciti, cioè purtroppo, il primo mese purtroppo per i guadagni che abbiamo avuto non ci siamo potuti pagare gli stipendi almeno miei e del mio socio per fortuna che abbiamo ricevuto degli aiuti statali e quindi qualcosa di me è uscito lo stesso fuori per il mese di agosto invece le cose stanno andando molto molto meglio c'è da precisare che la gente è tutta soddisfatta tutte le persone che sono venute sono tutte quante soddisfatte tutti i riscontri positivi e siamo perfetti siamo così tanto perfetti aspetta che no, lo metto un po' così che dire adesso, perché io mi vergogno quando c'è gente ha aspettato un attimo, eccoci qua stavo dicendo, per il nostro progetto, per il nostro concetto la gente è veramente veramente entusiasta perché oltre a presentare le classiche pizze un classico menù con le normali pizze che si trovano in giro presentiamo una piccola lista di pizze speciali gourmet un po' più ricercate che nella zona qua non si sono mai viste comunque, comunque è raro trovare delle pizze così e poi, oltre alle insalate che evocavano tanto con la pizza abbiamo anche gli antipasti facciamo anche gli aperitivi aperitivi all'italiana proprio e abbiamo appena introdotto anche i gelati vanno tanto anche quelli e niente, sono tutti soddisfatti sono veramente tutti soddisfatti se di quello che proponiamo sì, anche del locale il locale piace veramente tanto, 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 tanto e speriamo di avere vari scontri infatti ad agosto ci sono state tante presentazioni tante riservazioni di gruppi di 10, 15, 20 persone e siamo veramente veramente contenti siamo su google, instagram, facebook e siamo alla pizzeria pizzeria PIR PIR come sapete venite a quanto stagione in tedesco e niente magari andate a spizzare su instagram, su facebook su google anche basta scrivere pizzeria PIR site e la trovate niente di che adesso sto per arrivare al treno e magari vi faccio vedere qualcosina del treno dai ciao a tutti ragazzi per questo primo video è tutto e ci vediamo al prossimo video questa è una piccola introduzione diremo delle cose più importanti poi nei prossimi video va bene? ciao a tutti ciao ciao